In qualche minuto a Terrorema Roma vi invitiamo a controllare la chiusura del tavolino ma per la schiena della poltrona in posizione verticale ad abbassare i granzogli ad aprire le tendine dei finestrini e mantenere le cinture allacciate fino a quando il segnale luminoso per l'aspetto. I fusi dispositivi elettronici devono essere spostati in modalità uso aereo e i computer portati devono essere spostati correttamente rimuoviti e vi preghiamo di non utilizzarli. Grazie 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 Grazie